Buonasera a tutti ragazzi, buon questo video, parleremo ovviamente del cinquantottesimo episodio di Dino Hunter Ok, buona visione, speriamo che vada per il meglio, perchè i recenti terzi episodi sono stati un vero schifo Vediamo questo qua se andrà meglio, buona visione Eccoci qui ragazzi, la neve che cade Vediamo se va a finire come lo scorso episodio Come lo scorso episodio Eh? Ora vada a spacca dice il detto Con un colpo polmone, qua sarà semplicissimo Ma che è un... Ma che ha questo dannato fucile? Forza dai dai, ce la faccio, dai 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 dai, forza forza Sì Non mi dire che è ancora più peggio, eh? Quattro pisti catosauri Vabbè, proviamo ragazzi Anche senza... Così Ok Perché ho fatto di testa mia, imbacile Con me sto parlando ragazzi E vai, ce l'ho fatta Forse non andrà peggio Boh, chi lo sa Vedremo Due alberto sa Due alberto sauri, eh ragazzi Questi sono due carnivori No, ce l'ho vicino Ce l'ho vicino No Ma proprio vicino Ma vicino Ma che schifo Sì E vai Ho sincronizzato il BBM Vai Boh, vediamo Quattro tenontosauri Forza forza Dai 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 Sì È stato facile Perché l'ho potenziato Ma se facevo di testa mia Non credo che Le cose andassero così Vero? Eh, immagino Eh, immagino Dicevo Beh, continuiamo Quattro È una cosa impossibile Ma proviamoci Che quattro va Però colpiamo Quelli più vicini Eh Hai attenzione Ragazzi Bravo Che imbecil Ho fatto un pasticcio Ecco Ecco Questo io volevo ottenere Ed è visto E l'abbiamo recuperato Forse che in questo video Andrà molto meglio E sbloccheremo anche Una nuova regione Per giunta Vabbè Battiamoli Dai proviamoci Sono solo quattro E vuoi che sia Quattro trodon Forza 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 E qua ho combinato un altro pasticcio Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Una per cosa Che io ho potenziato Boh Non lo so come andrà a finire questo video Qua per forza Abbattiamo Questi 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 tre grifosauri A meno con un colpo polmone Preta facile Però peccato Si è tolto l'audio Continuiamo Continuiamo C'era la pubblicità Tre ragazzi Alberto Sauri Battiamoli Da dove Spondano Grazie Dov'è il terzo Facile Però peccato Si è tolto l'audio Ah Ero io A tenerlo basso Scusate Dai Facciamocela Anche senza Potenziamento Purtroppo Non possiamo Listo Abbattiti Terrificus 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 Si sono i dinosauri Che avevamo ucciso In passato Mi pare cosa Eh Forza Forza Caricati Stubbido Fucine Meno male Ce l'ho fatta Non so come ho fatto Ma nessuno Ce l'avrebbe mai fatta Zoom Visto Questi dinosauri Già li avevamo affrontati Sono un'anemesi Sono un'anemesi Ora possiamo abbatterli Ora possiamo abbatterli Quello che è Non lo so pronunciare Non lo so pronunciare Forza Forza No Non è possibile Non è impossibile Non è impossibile Ragazzi Mi sono fatti scappare Perfetto Oh Finalmente La preda È stata nostra Ok Ok Due Col Colpo cuore Sarà Facile Credo Non lo so Tentiamo Il primo Questo Forza Ragazzi Sì Sì Per un pelo Stavo per sbagliare A posto Ragazzi Sono un cacciatore Pre Un provetto Di dinosauri Abbattiamo gli oviraptor Quattro oviraptor Ragazzi Vediamo È stato semplice Sì Semplice Un corno È stato difficile Visto Poco Poco Ragazzi Non è giusto Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ho saltato solo un dinosauro nella parte in cui farvi il terzo colpo Dal quarto Vediamo come va a finire qua Dai Ce la possiamo fare Anche senza potenziamento 5 Trodons Visto Ce la possiamo fare Tranquillamente Visto Visto vediamo cosa riusciamo a concludere con un colpo polmone 4 quindi è specie ma tu levati che diamine ci fai tu levati il tuo stupido sedere spostati che non mi interessi se mi costringi come devo colpirli ragazzi se c'è questo iguadonte in mezzo bravo cretino ma è una cosa impossibile ragazzi no no ragazzi basta concludiamo qui già si è fatto tardi e poi salterò l'altra carriera degli altri episodi no 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 basta si conclude qui ragazzi poi continuiamo domani se riusciamo a sbloccare la quindicesima regione ebbene ragazzi direi che questo video lo troverei banale un po' così sto video così purtroppo un po' più meglio però così va comunque qua vi posso chiedere iscrivetevi al canale se volete mettere un like o no commentate e noi ci vediamo domani in un prossimo video col 59esimo episodio e 60esimo vediamo se riusciamo a terminarlo Dino Hunter ci vediamo domani in un prossimo video ciao a tutti